Mister, neanche il tempo di dare il fiato che già c'è un altro impegno contro il Taranto, il recupero. Va bene, tutto va bene. Abbiamo quest'altra partita, speriamo di non aver accusato oltremisura quelle che sono state già le partite a distanza. E quindi dobbiamo andare a giocare, abbiamo di fronte una squadra molto forte, è cinica, è tosta, è guidata bene, sanno cambiare pelle in corsa e giocano bene. Sono punti meritati, sono punti che hanno meritato attraverso quello che è stato il lavoro di Capuana, attraverso l'applicazione di questa squadra e della qualità di questa squadra. Quindi sappiamo che l'impegno è importante, ma noi non siamo meno, cercheremo di contrapporci con le nostre armi affinché possa essere una partita bella, piacevole, avvincente e con grande spirito di applicazione dentro la gara stessa. Quindi è fondamentale che loro capiscono questo. Il Messina con le squadre più forti si esalta, l'ha detto anche lei, ma lo dice il campo. E con la conforta sapere di giocare contro il Taranto piuttosto che contro un'altra? Mi conforta, ma relativamente, perché noi non abbiamo recupero dal 5 di questo mese, noi non abbiamo fatto più una settimana piena, abbiamo dovuto cambiare pelle durante la settimana, abbiamo dovuto fare veramente degli sforzi incredibili anche in funzione dei viaggi, in funzione delle partite, e i cambiamenti repentini di quello che è oggi qua, domani in un altro campo. Ci sono delle difficoltà, ma noi non per questo non andremo a Taranto a fare la nostra onesta e dignitosa partita, quale la squadra mi ha abituato.